Ok, fatemi spiegare un attimo il titolo prima di vedere il video Se respiri prima di aver vinto, hai perso Cosa significa? Che non dobbiamo respirare finché non vinciamo? No ragazzi, state tranquilli, potremo respirare Ma solamente o con la bocca o col naso In questo caso ho deciso la bocca E cosa dovremmo fare ragazzi? Prendere della carta igienica Fare delle specie di palline O della specie di tappi E mettercela nel naso e così parleremo Tipo nasale tutta la partita e sarà una cosa strana Guardate la reazione mentre l'ho detto agli altri Ok ragazzi, siete pronti a infilarvi dei tappi nel naso? Ma mi stai prendendo No, tu mi stai prendendo per il culo Ragazzi, ve l'avevo spiegato il video, ok? Non vi avevo detto dei tappi nel naso, però era questo il video Ok, avrete capito che dalla loro reazione Questa cosa sarà molto strana Comunque, mi raccomando, codice ferro Con una sola o ormai e vi lascio il video Allora ragazzi, prima di tutto so che ci vedrete in questa condizione Ma nessuno si sta facendo nel male Se dovessimo avere anche un minimo di problema di respiratoio O qualsiasi cosa Sicuramente li torneriremo, ragazzi, ricordiamo che è un gioco E' meglio sempre stare attenti Quindi no, rifatelo a casa Ragazzi, partiamo con questa challenge Comunque, no, qua tranquilli, ragazzi, non si sente neanche Però No, ma per carità, non si sente che abbiamo cambiato le nostre voci Molto strana, perché sinceramente è strano non respirare dal naso e solo da bocca Che sì, in realtà forse un pochettino si riesce anche dal naso Però non fa nulla, ragazzi, ci stanno persone E mi manca c'è Ma se io provo a respirare dal naso, muoio? No, sicuramente no Però rischi che la carta igienica ti vada dentro il cervello E no, come fa, diciamo In realtà, come a me l'autotune Questa nuova No, 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 l'autotune Sicuramente era un po' meno strano Comunque penso che il nostro naso diventerà circa grande più o meno quanto la mia cia ci posso farla cameretta da che mi vennerà per la casetta la che mi trova e comunque allora ve lo dico ragazzi ci stanno persone quindi cerchiamo di andare a pushare cerchiamo di andare a far po di fermi un attimo ragazzi cosa è successo perché non c'è best ma mi non hanno usher di 2 ma lo cambiato il nome perché gli hanno cambiato il nome perché io mi chiamo best bastard e secondo quei trepi che una parolaccia quindi me lo cambiano ogni secondo questo è come dire ti amo in realtà erano ragione io sono pro alla epica e gli voglio ma comunque ragazzi al di là di tutto questo potrebbe essere davvero e quindi pensiamo altre cose allora dove stanno più precisamente dentro dentro qui dentro qui dentro il mio naso stanno dentro il palazzo veramente è un gesto orribile cioè in realtà non hai da ragazzi sempre un trick e c'è due cose che mi escono dal naso molto strano che ci stanno persone vabbè ma questo è stato in un secondo più o meno porca vacca ok ucciso ucciso questo benissimo perfetto un coriglio e aveva un po se non c'è la sua le penne un piccolo pompa il mio naso sta diventando il buco nero non vorrei dire significa il buco nero scusa il buco nero è un buco grande distrutto di supporto bravissimo è l'ultimo e no c'è un altro da me porca di quella guarda quanti ce ne sono ok ha ucciso uno quasi è stava in fondo dai non ci credo uno di vita ragazzi c'erano per l'attivare lo piccato che arriviamo arriviamo arrivare una bella re una bella dobbiamo vincere prima di no per arrivare un altro dietro i veri arrivano veloci si riuscirebbe 17 voglio provare a kill arlato in una maniera super ragazzi ovvero con i tappi nel naso e sì ma posso dire una cosa più che altro la mia schiena chi è che la deve andare a prendere scusa in realtà nessuno si adesso andiamo tranquillo best allora ci vado io a pensare alla tua scheda vado io a pensare pure l'ultimo nemico comunque ragazzi vorrei dire una cosa alla fine comunque sono semplici tappi per il naso quelli che abbiamo noi quindi ho una piccola offerta da farvi ragazzi per farlo ma tipo qualcuno vuole i miei tappi magari li do in sconto a sicurezza euro abbiamo i tappi ragazzi no 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 non dite neanche persone che il covip porca miseria esatto esatto contro il coi tutto ragazzi dai basta basta non diciamo altre cose comunque ragazzi e non ci sta più una persona si è scappata ha detto a c'è poco che hai così nel naso allora andiamo subito a prendergli lì lo vuole anche lei sono meglio così tra me tutti i tuoi arrivo per una parola di loro chi lo distrutto questo che è caccato perfetto guarda qua ha uno di vita sono stati da bene nasi che ce l'avevo davanti agli occhi ve lo sicuro e ragazzi dove è ferro porca vacca allora sto comprando un cecchino è un sacco sinceramente questo bel cecchino non voglio comprarti arrivo arrivo sto correndo e io tranquillo e non c'è problema fai con calma che ragazzi la sto mangiando la carta igienica perché puria dice vicino alla bocca che sapore ha che sapore a che si può sapere dove sta questo allora è buono riepe l'hai mangiato veramente complimenti comunque fermi un po lo lo cecchino in testa ho missato vabbè tanto brucia veramente scusate stavo scherzando ok ragazzi allora siamo su un camion in quattro cattivissimo vecchio camion dovrebbe tenere quattro persone comunque allora andiamo verso il mecca ragazza il mecca c'è il mecca da prendere dove il mecca dove il mecca voglio il mecca rimangono il mecca colazione un attimo scusatemi un attimo c'è veramente non c'è stata neanche una persona che è venuta qua a parco ma che cavolo sai che problema c'è l'ultiamo noi dai no 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 non lottiamo andiamo a busciare perché io ti ricordo che abbiamo dei tappi nel naso che io vorrei togliere sinceramente quindi se ognuno di noi riesce ad arrivare di ct ce le togliamo tanto è una cosa impossibile quindi no no facciamo che vinciamo e basta ragazzi ok non stiamo trovando persone nel frattempo stiamo un po chillando sinceramente ma con questi tappi nel naso è anche difficile fightare parlare intanto ogni tanto mi va in bocca ragazzi però la parte fortunatamente pulita allora ragazzi andate a prendere l'altro mecca voi e faremo due mecca ragazzi insieme non ho mai visto una cosa del genere tanto per favore ma due mecca che hanno i tappi nel naso posso farvi notare una cosa ma quanto è bella la mia voce con questi tappi sta peggiorando di tempi di giorni ma i ragazzi c'erano di sfodere in realtà ragazzo c'erano dietro e ci avete poi poi iniziano a tirare di distrutto il ruolo distrutto morto a gioia a gioia da solare per la farete la ragazzo e mi hanno ucciso per un uomo rimetto il resto io ho tutt'ora 40 perfetto vai vai di colpi mai salta salta porca vacca non posso saltare vabbè senti vediamo a mangiato non ci ho posto lo distrugge in così poco tempo o fai spara spara di pompa di pompa vero stavi dicendo che cosa è successo raga che cos'è appena successo dolore mangiando porca vacca buona la carta igienica veramente una prelibatezza la carta igienica aiuto riuscite venire dove più ricchi sa arrivo arrivato uno via dal nato raga arrivo arrivato un uomo tappato uomo fortunato l'ultima da me è volato in arrivo a una di vita che quello è strutturato che questo è morto è morto e ragazzi ci sta un altro mecca purtroppo e scusa io vedo tutto per noi ragazzi riprendiamo non ho permette un ritorno da ragazzi il ritorno del super meca e si vola a distruggere ancora tutte le persone rimaste con i tappi nel naso ok ragazzi gente la guarda quella torretta come se ne va a distrutto e peggiori vabbè devi andarla per porta devi andarla in fondo mamma mia guarda quante cose la spacchiamo tutto ragazzi non avete l'idea l'idea quante belle vede da spaccare ma mio guarda 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 come si guarda ricorda piccato i ragazzi c'è altra gente qui spara spara bravissimo ok bravissimo porca vacca ora bravissimo ok ora cazzo l'albero primo è ora fai attento per gli altri niente cui porca macchina rompa e spacca 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 col piede come 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 altra gente ragazze il traccio è pieno di gente raga da me ha smirato un pochettino se posso dirlo porca vacca però bravo però vogliamo ragazzi mi sono caduti definitivamente i tappi sono morti come sei morto e beh tu dovresti essere eliminato però puoi riprenderli e rimetterti lì nella velocità della luce aiuto da me da me da vera scusa o porca vacca deve pieno di gente io sto dicendo da ventura ne ho preso volevo dire fra porca vacca allora voglio sparare un colpo di cecchino per darti una mano da quel fondo però siamo messi veramente tutti malissimo quindi molti e raga sono morto mi sarebbe morto come stavo andando correndo da può ragazze abbiamo provati da questi e ve lo dico dovrebbe essere un team ora lo andiamo torniamo la cambia da user ragazzi non sto capendo da me non mi chiamo user best non volevo essere fisica che aveva morto del fuoco sì lo so perché mi ha dato la chi la casa ma scusa vero ma adesso me li posso togliere sti così quando è il bell'ore dei verso in poche parole così si puoi toglierti stai tranquillo sicuramente una bella libera ragazzi gente l'hai pienissimo mi hanno fatto il q q in cui basta in una e con idea basta perché per me sono morto no porca vacca con lascia uno spazio lo voglio lo voglio ragazzi voglio quello spazio a costo di morire per tutti a costo di morire intendo togliermi un secondo così ok tappi quello che mi aveva mangiato lo spazio porca vacca porca vacca vola vola perro fuggi da foggia e ragazzi è pericolosissima questa scena che cavolo sto suggerendo rifatto sei rimasto vito buono e non è che bisogna intanto ogni tanto ai dei colpi cecchino no come no zero deluso sicuramente mi aspettavo dieci colpi cecchino dal migliore amico repita magari la carta igienica o ragazzi ragazzi davanti a uno distruttore di un ferro arrivata all'altro destra ferro ok preso tutto qua e per preso tutto intendo nulla in queste parole ok ha risolto non ci credo la parola solo mi devo tirare un attimo questo scudone sistemarmi questo schifo di tappi per il naso e siamo ancora in gioco ripetiamo ancora il gioco fatti prendere queste cose posso togliermi di ragazzi sono una cosa facili di vogliere una rene che erano 7 8 ok mamma mia aspetta che gli faccio bruciare a tutti il terreno dato che abbiamo la fortuna di avere questo cicchino che ho pagato praticamente oro fa tanto ora che non sono oro colato in teore questo poverello c'è rimasto per la polonare per lei posso dire una cosa dire una cosa l'hai distrutto e gli hai fatto il cuna noi che è bravissimo mia bestia che sempre vuole queste cose comunque allora dove stanno le altre persone sono sogno lo so sentino 8 ragazzi dovete vincere questa partita la fatelo fatelo per noi vogliamo usare in teoria questo dito eccolo non ho vissato 30 di danno se gli ha fatto la mare dovrebbe bruciare tutto in teoria no eh sì 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 ok dovrebbe morire anche lui tanto hai fatto una voce veramente strana no sono qui sopra farlo bruciare ti sapeva sopra su se te sei accorto me sono accorto e come mi ha tirato un hit ok attento è riuscito proprio attenzione per capare vanno usati che brutta situazione è questa regatta di gente da me c'è pure un cane che ulula che urla che non so cosa fanno la mia non sicuramente ecco dove stanno stanno andando via ora in aria ha detto the white fedi seguita sotto c'è un tipo che vuole fare il cunai ripeto l'ho sentito adesso mi tiro questo scudone poi lo faccio io poi vi faccio capire anche chi domanda sicuramente guarda che no ho aiuto mamma ha fatto ho già fatto anche già fatemi lasciato da solo mi stai dicendo questo ma mai tra adesso arrivo tra l'idea riguardo aglio ciao e lanciagranate via perfetto perfetto mamma mia che brutta situazione fermo che non ci voglio caricare colpi ci trovano e che ha durato ci chiede un altro che credo ragazzi aia che dolores ad o da dire ma dalla in fondo mano che ma che vergogna per evitare ripeto dipende tutto da te te lo ricordo è tutto e riconarmi poi puoi fare e va bene va bene viene da me arrestarmi se riesci mi hai lanciato via ai lancianate note che non sei messo male anzi anche tu però siete messi malissimo proprio arrivare e arriva sì però non ce lo dovremmo fare ok inizia risarmi ora no vivi la fila non ci posso credeva bene ma sarebbe tutto nelle tue mani però adesso stai molto attento la bussiano di volare a bussiano bravissimo bravissimo ho credito parli aserare non devono curarsi lì è per favore è stata l'ora ai box di pietra che non per il dato spama spama ragazzi questi qua da dietro ci hanno rotto le scato e tutto il tempo finalmente il lobby ragazzi mi posso togliere questi cavolo di tappi del naso schifosi però almeno questa sfida l'abbiamo vinta ovvero di finire la partita senza respirare dal naso quella ci abbiamo fatta almeno ragazzi grazie alla visione vi ricordo che ho cambiato codice creatore da ferro da stiro a ferro con una o semplicissimo da inserire i negoziati quindi correte subito ad inserirlo perché è scaduto l'altro non so cosa sia successo quindi per supportare il mio massimo andate ad inserirlo vi ricordo di iscrivervi al canale dei miei amici qua sotto in descrizione dal mio qua sopra lasciate un bel like ozzo e vi lascio al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 viva i tappi ciao